Sopra luogo nella stazione passeggeri del Porto di Pozzallo per fare il punto, sull'iter di rilancio dell'infrastruttura partito con la concessione dell'area al Libro Consorzio Comunale di Ragusa. Dopo un breve confronto, il commissario straordinario del Libro Consorzio, Salvatore Piazza e il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, e il comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Donato Zito, si sono recati all'interno della stazione per verificare lo sviluppo dei progetti illustrati dal dirigente provinciale del settore tecnico, l'ingegnere Carlo Sinatra. Ottenuta la concessione dell'area spiegata il commissario Piazza, finalmente diventiamo operativi al 100%, anche se, è giusto ricordarlo, in quest'ultimo anno è stata comunque assicurata la fruibilità della stazione in modo efficiente. Un primo step prevede l'apertura di un passaggio ciclopedonale che attraversa l'area antistante la struttura. Una scalinata collegherà la stazione passeggeri al Porto Piccolo, in modo da poter rendere l'area fruibile non solo ai viaggiatori in transito, ma anche all'intera comunità. A questo proposito si predisporranno diversi servizi. All'interno della struttura verrà attrezzato un punto ristorazione, la biglietteria e numerosi locali che verranno dati in gestione. Allo stesso tempo, a giunto piazza, anche le navi da crociera cominceranno ad usufruire dell'infrastruttura, grazie a un sistema di navette che porterà i passeggeri dallo sbarco fino all'interno della stazione. Tutto è finalizzato alla politica di sviluppo dell'area portuale, ha aggiunto il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, anche verso la città di Pozzallo. Non ci sarà più questa separazione netta con il centro abitato. La recensione attualmente esistente verrà sostituita con una scalinata di ingresso. Il progetto è quello di collegare la stazione con una pista ciclabile che dal porto si congiunga agli altri tratti che stiamo realizzando. Cittadini e turisti potranno quindi vivere questi luoghi anche per momenti di svago e convivialità. L'intendimento della Capitineria di Porta, dichiarato invece il comandante Zito, è quella di aprire il porto piccolo alla città e rendere la stazione marittima il fulcro di questa operazione. Per questo motivo prosegue il confronto con il Libero Consorzio e l'amministrazione comunale nella speranza che in tempi brevi si possa dare avvio ai lavori affinché entro la prossima stagione estiva la stazione marittima potrà essere vissuta a pieno anche da tutti i ragusani.